Consegnati questa mattina la ditta EVSRL di Trecastelli, i lavori per la realizzazione della pista ciclabile del Metauro. La ditta si è giudicata all'appalto di un valore di 6 milioni e mezzo con un ribasso del 12,7%. L'opera più importante del progetto è la realizzazione di un ponte ciclabile pedonale che metterà in comunicazione i quartieri del Vallato, dell'ospedale di San Lazzaro con Sant'Orso e le frazioni che si dilungano sulla Flaminia. Un'opera con 5 campate che attraverserà via Papiria, il canale Albani, la superstrada Fano Grosseto per poi addentrarsi nella viabilità di Sant'Orso. Si parte dalla stradale adriatica, quindi proprio in prossimità della ferrovia Fannurbino e in questo primo tratto ci sono 8 chilometri e si arriva in prossimità di Cucurano. È una pista ciclabile che ha sia delle valenze territoriali e sia delle valenze urbane, nel senso che è la ciclovia della Valle del Metauro, ma è anche la ciclovia che collega i vari quartieri di Fano, quindi collega San Lazzaro, Vallato, Sant'Orso fino ad arrivare in prossimità di Bellocchi. Quindi l'abbiamo pensata anche con una qualità particolare perché diventerà una ciclovia con delle caratteristiche anche di utilizzo urbano, quotidiano per andare nei servizi, per andare a scuola, per andare nelle attrezzature sportive, tant'è che stiamo finanziando e progettando un ponte che oggi passerà sopra la superstrada, sopra la via Papiria e il Vallato con una qualità architettonica elevata proprio perché passa attraverso delle zone di qualità del territorio di Fano. Il ponte invece che lunghezza avrà e quali saranno le dimensioni della larghezza? La larghezza interna che si può percorrere è 2,60 m, dopo il ponte è chiaramente leggermente più largo perché ha una serie di strutture e la lunghezza è circa 80 m. E ovviamente la salita sarà accessibile? È dolcissima. Quali sono state le ragioni tecniche per cui l'itinerario di questa pista ciclabile del Metauro non costeggia la ferrovia? Tanto per lunghi tratti passa in prossimità della ferrovia, tutti i tratti che vanno dal Codma fino a Cucurano sono in prossimità della ferrovia, non sono un metro e mezzo o due dalla ferrovia ma sono a 5-6 metri, quindi ha una distanza maggiore che permetterà la riattivazione della ferrovia. Ma l'itinerario per la maggior parte continua a essere lungo la ferrovia e in alcuni tratti è diventato più urbano seguendo un tracciato che il Comune di Fano aveva nel piano delle ciclabili. A consegnare il cantiere, ottenendo la soddisfazione del sindaco Luca Serfilippi, è stato l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli insieme ai suoi tecnici, il quale ha parlato di un'opera iconica della città di Fano. Un simbolo per chi entra dall'autostrada, dalla superstrada, da via a Papieria ma soprattutto supererà una barriera rendendo sicuro quel passaggio che così oggi non è per pedoni e ciclisti. Attraverseremo quindi con questo ponte ciclopedonale via Papieria, la superstrada, il canale Albani e collegheremo il quartiere di Sant'Orso e il resto della città, quindi una vera opera di rigenerazione urbana a tutti i servizi della città. Un'opera al servizio dei cittadini della terza città delle Marche.